Eccoci ragazzi, non avevo parlato, come si vede, siamo qua. Grazie a tutti. 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 Buongiorno. 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 Eccoci. Buongiorno. Noi andiamo via. La chiave? Sì. Dobbiamo pagare la cassa di soggiorno. Buongiorno. 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 ormai non abbiamo usato niente, li ho messi da parte, solo uno, non lo uso. Sì, le ragazze lo vedano. Ok. Quindi, voi avete già pagato la camera, quelle che non hanno a parlare, quindi sono 13,50. Perfetto. Non so se ce lo rimanete, per me non riesco, sono 4,5. Dimi che antevo. Ah, che bello, limonese è fantastico. Mi dia la moneta. Porto. Perfetto, va benissimo anche così. 9, 9, 3, 4,5. Sì, un'altra. Molete, un certo. Non ci vogliamo mai. Posso prendere un caffè? Qualcosa? No, va bene così, ma la sono già fatta. Sì, la ringrazio, gentilissima. Che bellissimo posto, complimenti, signora. Grazie. Che gentili, grazie. Allora, per uscire, il codice è... Ok. No. Qua. Ma neanche questo bimbo non può uscire, forse. Vuoi una brioche, Marco? Se vuoi fare un giro là e vedere cosa ti piace, sono contento. Questo, 3, 2, 1, e cancelletto. Questo, cancelletto, sì. Per sento. Se volete fare un giro, prima di andare, guardate. Grazie. Grazie mille, buona giornata, ciao. E' un buro che ti condi. E' un buro che non vuoi una pulicina. Ah. Un buro però... Mi mangio. Ma questi stanno già in piscina. non mi sembrava che faceva caldo adesso ce ne dovremmo andare e dovrei lasciare un attimo il video tutto il tempo prima entriamo nella macchina poi chiudo un attimo il video e poi quando siamo arrivati ricomincio il video ok e quanti ore ci mettiamo se voi siete già venuti qua iscrivetevi nei commenti direzione sud ovest verso strada di san bartolo ma solo quattro minuti siamo arrivati solo cinque minuti è durato adesso dovrò mandare penso qui dentro perché ci saranno pescine molti grandi ma ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.